Ehi, che è l'ultimo della lingua. Allunga la lingua. Ciao, mi riprendi tu. Ciao. Quando la riprendi? Quando la riprendi? Quando la riprendi? Ma che è bravo! Che è scherzo! Ma no! Non è scherzo! Ma è scherzo! Oh wow! Hai capito, tutto bene! Un commento, per favore! Sperta! Ok, figura di mezzo, aspetta, figura di mezzo Ma chi la stai facendo? Non stai, non c'è nessuno Lo sforzo! Non è separationo La scocciata Grazie.